Allora? Con la cinese di scuola tua come va? Ti sei fatto avanti? No, cioè, però credo di averglielo fatto capire. Scusa, nettichetta. Sei stato cotto di lei per tre anni. Questo è probabilmente l'ultimo giorno che la vedi e non dici niente. Oggi glielo stavo per dire, però poi è arrivata mamma. E beh, e là c'è un sesto senso per rompere i coglioni. Fila subito a scuola a dirglielo. No, mi vergogno, e poi devo aspettare papà. Lo vedi? Questa è la mamma che ti ha trasmesso l'ansia. E' la tua vita, cazzo. Dici che devo andare? Ma è certo che devi andare. Però sbrigati, che poi mi cambi idea. Vado. Aspetta. Ti voglio bene, fratellino. Anche io. Senti, stasera non verrò al tuo esame. Mi dispiace. Perché? Perché parto. Però ricordati che ti voglio bene e ti penso sempre. Adesso vai. Vai? Sì, sì, lo zano. Oggi è stato molto bello. Oggi è stato molto bello. Vado. Sì, sì, lo zano. Vado. Sì, lo zano. Sì, sì. Vado. E' stato molto bello. Vado. Sì, sì. Vado.